Ciao a tutti cari amici e bentrovati sul mio canale fantastica stefano chiocciola yahoo.it la media di riferimento se volete informazioni sui consulti privati di cartomanzia vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni eccoci qui in compagnia con l'oroscopo fatto con i tarocchi e le cartole ocolari per il seno del capricorno, acquario e pesci lo faremo uno per volta per il mese di settembre 2021 incominciamo con amici del seno del capricorno bentrovati amici del seno del capricorno iscrivetevi al canale lasciandomi un like e un commento e attivando le notifiche attraverso la campagna in alto a destra vi aspetto anche tutti i numerosi sul mio profilo instagram e facebook il tarot man incominciamo con le prime energie per questo mese di settembre vediamo un attimino cosa vi aspetta durante questo mese allora abbiamo la carta della culpabilità quindi qua o voi vi sentirete in colpa nei confronti di una situazione o una persona oppure c'è qualcuno che vi incolperà in qualcosa più o meno grave oppure vi ponterà il dito contro vediamo quindi di che si tratta questa prima energia allora vediamo un attimino abbiamo la carta del tre di spade e infatti come vi ho detto prima c'è una persona che sicuramente non ve la farà passare liscia c'è proprio il fatto di appunto soffrire per qualcosa quindi qui dipende molto dalla vostra situazione se avete appunto agito in malo modo attenzione perché c'è la legge del karma ok quindi la ruota gira o comunque potrebbe essere il fatto che qualcuno vi incolpa di qualcosa di un fatto che avete commesso qua potrebbe essere anche una colpa di cui voi appunto non avete colpa sudate il giro di parola però vediamo un attimino col tre di spade c'è proprio un qualcuno che vi pugnala contro c'è ok è uscita la carta del benessere però voglio pescare un'altra carta dei tarocchi per capire meglio vediamo un attimino la carta dell'asso di denari qua secondo me è un qualcosa che vi lega a una situazione economica finanziaria monetaria eredità non so ovviamente qua dovete capire un attimino la vostra situazione qua qualcuno vi punterà il dito contro riferendosi a un qualcosa legato appunto ai soldi ok quindi ripensate a una vostra azione o a un qualcosa che vi lega a una situazione economica e finanziaria e appunto capite perché ci potrebbe essere quel puntare il dito contro puntare il dito nei vostri confronti quindi darvi la colpa di una una ostrazione ok ma andiamo avanti con la seconda carta la seconda energia allora vediamo un attimino abbiamo la carta dei soldi e anche qua c'è qualcosa qualche dinamica da puntista appunto economico e finanziario però vediamo se è qualcosa di positivo o di negativo attraverso l'asilio dei tarocchi e delle altre carte vediamo un attimino perché detta così non vuol dire niente i soldi si fortuna successo abbondanza vincita premi bisogna capire se le carte successive sono positive o negative abbiamo la carta del mondo quindi sicuramente qua a prescindere dalle carte precedenti qua qualcosa comunque da puntista di moneta di denaro giungerà a voi ok potrebbe essere anche perché no un nuovo lavoro eh abbiamo la carta della povertà allora purtroppo è me dove dobbiamo legare come ho detto prima tutte le tre carte insieme qua il mondo può indicare qualcosa di rinnovato ok però ricordiamoci che la carta successiva è proprio la povertà quindi qua potrebbe essere un ciclo che si apre in maniera però non positiva potrebbe esserci un po' di sfortuna durante questo mese di settembre qualche dinamica di magari fallimentare da puntista aziendale progetti che non vanno in porto problematiche proprio nella gestione delle risorse e dei beni materiali quindi ci sono varie sfumature secondo me qui ci sono proprio dinamiche non troppo positive per la questione dei soldi anche un mutuo che non vi arriva un qualcosa che non vi parte da puntista bancario o di finanziamento o di investimento ok problematiche comunque riferite ai soldi magari spendere anche più del dovuto quindi attenzione anche alle spese extra che dovrete affrontare durante questo mese di settembre ok però andiamo avanti con il prossimo messaggio io poi vi offro un messaggio una chiave di lettura a 360 gradi in base anche a quello che mi arriva dalle carte poi queste ricordiamoci che sono energie generali abbiamo la carta della sessualità quindi qua la sessualità sarà a mille l'ero sarà a mille vediamo un attimino perché è uscita la carta della sessualità abbiamo la carta del sole in effetti qua ci sarà tanta tanta passione vedete c'è proprio la carta del sole qualcosa che scalda quindi qua potrebbe essere anche il fatto di approcciarsi o al vostro partner proprio con tanta carica impito sessuale oppure fare perché no degli incontri a stampo passionale a stampo sessuale ok la famiglia quindi qua potrebbe essere appunto un qualcosa legato al vostro rapporto familiare comunque rapporto di coppia mi riferisco a coloro che sono magari già sposati soprattutto quindi qua c'è proprio tanta carica tanta energia sessuale il che non guasta ok quindi se cercate del sano sesso durante questo mese di settembre sicuramente c'è la possibilità di entrare anche in un rapporto maggiormente fisico e passionale con il vostro partner o comunque fare conoscenze sempre in ambito comunque strettamente passionale ok però adesso andiamo a pescare una carta del potere dei pensieri vi darò una affermazione positiva che dovete ripetere più volte al giorno per tutto il mese di settembre 2021 per attirare a voi appunto energie positive la carta è questa la mia parte maschile e quella femminile sono in equilibrio quindi c'è un bilanciamento tra la vostra sfera femminile e la vostra sfera maschile le mie parti maschile e femminile sono in perfetto equilibrio ammonia sono in pace e va tutto bene quindi qua dovrete lavorare anche sul vostro lato femminile sul vostro lato maschile ma vediamo per finire le energie legate all'ambito delle emozioni con le ioli essenziali allora abbiamo emozioni positive legate all'olio di abete l'olio di abete e l'olio del distacco qui molto probabilmente alcuni di voi si distaccheranno da energie negative o da persone non troppo corrette che comunque non sono state troppo carine nei vostri confronti c'è maggior fiducia in voi stessi maggior coraggio riuscirete anche a difendervi con forza con determinazione ad usare anche un linguaggio una comunicazione idonea per parlare con gli altri ok qui c'è proprio il fatto di prendere coscienza ok di voi stessi e riuscire proprio durante questo mese ad eliminare tutte quelle abitudini negative e distruttive della vostra vita perché c'è proprio maggior sostegno maggiore sicurezza dentro di voi quindi è importante durante questo mese con coraggio cambiare tutte queste abitudini anche negative queste dipendenze massane e quindi apportare proprio una rigenerazione nella vostra vita ok e questo è il vostro messaggio per il mese di settembre 2021 ma andiamo avanti con gli amici del segno dell'acquario bentrovati che amici del segno dell'acquario intanto che vado a posare le carte vi invito a iscrivervi al canale proprio in questo momento attivate le notifiche attraverso la campanina in alto a destra se va iscrivetevi al canale benissimo cari amici vediamo le energie attraverso le carte e i tarocchi per quanto concerne il mese di settembre 2021 vediamo un attimino quali sono le energie per voi dell'acquario allora vediamo un attimino allora abbiamo la carta della murra benissimo l'amore però ovviamente vado a pescare altre due carte quindi qua sono i rapporti d'amore ok quindi matrimoni commivenze fidanzamenti però vediamo un attimino se sono le carte successive positive o negative allora abbiamo il 10 di coppe che è una carta molto molto bella perché è l'emblema proprio della famiglia star bene in famiglia e poi abbiamo la carta della cura di sé beh sono belle belle carte qua potrebbe esserci un incontro con una o più persone soprattutto in campo proprio amoroso o comunque creare famiglia o star bene dal punto di vista familiare c'è qualcosa proprio di veramente appagante di veramente stabile e solido in un rapporto quindi potrebbe essere anche ampliare un rapporto quindi estendere un rapporto in positivo quindi c'è una convivenza un'ufficializzazione di un rapporto il pensare comunque a un matrimonio ok sicuramente ci sono sogni desideri dal punto di vista familiare amoroso che si esaudiranno ok c'è tanta proprio purezza e semplicità all'interno del vostro rapporto ma soprattutto anche nel rapporto con i vostri figli o la vostra famiglia in generale che possono sicuramente darvi quella carica per prendere cura di voi stessi grazie a questi rapporti riuscirete proprio a prendervi cura di voi stessi a star bene non solo con loro ma anche e in primis con voi per i single nuove conoscenze oppure flirt nuove amicizie molto molto intense che potrebbero perché no essere stabili e durature nel tempo ok è importante è importante curare le vostre reti di relazioni soprattutto i vostri rapporti non lasciate nulla al caso ma dovete coltivare e innaffiare giorno dopo giorno il vostro rapporto con sentimenti comunque sinceri ok andiamo avanti con la seconda carta abbiamo la carta dello straniero ok quindi cosa vuole dirvi questa carta ma questa carta può indicare un qualcosa o una persona che viene da lontano oppure anche fare un viaggio ok però vediamo il perché è uscita questa carta sicuramente qua il viaggiare o entrare in comunicazione con altre nazioni quindi qua potrebbe esserci anche dei rapporti scambi lavorativi con l'estero ok o iniziare un lavoro che vi farà maggiormente connettere con l'estero abbiamo la principessa di coppe qui potrebbe essere anche perché no una persona o incontrare una persona straniera o una persona che giunge a voi anche da luoghi lontani e comunque potrebbe essere un uomo una donna dei segni d'acqua cancro scoprono pesce o portatore o portatrice l'ascendente nei segni d'acqua la prova vediamo un attimino però di pescare un'altra carta dei tarocchi potrebbe essere un'opportunità di un lavoro che potrebbe o fare allontanare da casa o un lavoro che potrebbe permettervi di entrare in comunicazione con l'estero quindi anche girare un po' il mondo vediamo un attimino il nove di bastoni e la carta del tre di coppia bene allora qua sicuramente c'è la possibilità di entrare comunque condividere un qualcosa anche con una persona che viene dall'estero che viene da lontano ok qua c'è qualcosa di stabile di produttivo che porterete avanti o comunque che inizierete ok quindi sono comunque ottime carte per entrare in comunicazione con l'estero per se volete trovare un lavoro che vi può far affacciare comunque al mondo non solamente dell'Italia ma anche europeo e internazionale ok quindi potrebbe essere proprio o rapporti o incontri amorosi con persone straniere o di altre culture o anche dal punto di vista proprio prettamente lavorativo ok o avere a che fare con l'estero ok o anche un viaggio per amordio come ho detto prima potrebbe esserci anche un viaggio eh ma vediamo l'altra carta cosa vuole dirvi abbiamo la carta del ritardo perché è uscita la carta del ritardo il ritardo è anche il fatto di perdere comunque un'occasione magari anche importante per voi quindi perdono il treno può essere in ritardo vediamo 9 di spade 9 di spade qua cari amici dovete però dovete affrontare un po' i vostri demoni le vostre eccessive preoccupazioni che sono preoccupazioni dovute soprattutto alla vostra testa create e generate dalla vostra testa qua dovete ritrovare il vostro equilibrio soprattutto mentale il 9 di spade non è una carta proprio positiva anche perché il 9 di spade ripeto può comunque indicare il fatto di essere un po' tormentati avere anche paura di quello che capiterà ok e quindi è anche voi che potreste far ritardare un po' le cose perché magari avete paura di affrontare una situazione o una sfida però il fatto di affrontare questa sfida testa alta ok cercando proprio di affrontare i vostri terroietti demoni la vostra parte ombra vi permetterà proprio di entrare in equilibrio ok questo è la cosa importante quindi affrontate comunque le le vostre sfide della vita o comunque le vostre preoccupazioni ok ma vediamo di pescare una carta legata al potere dei pensieri quindi una frase che dovete ripetere più volte al giorno durante questo mese che attrarà a voi appunto energie positive la carta è questa posso lasciare andare il passato e perdonare tutti quindi qua dovrete lasciare una situazione una persona del passato e dovete imparare a perdonare anche se l'altra persona vi ha fatto del male dovete in primis perdonarla e dopodiché lasciarla andare ok quindi libero me stesso e gli altri dalle ferite del passato sono liberi di vivere nuove grandiose esperienze e lo sono anche io sia loro che io che voi in questo caso sarete liberi di vivere delle esperienze in questo caso però dovete lasciare andare il passato quindi in questo caso potrebbe essere il fatto di dover proprio lavorare su queste energie stagnanti del passato ma non di farlo in un futuro no farlo qui proprio durante questo mese di settembre e così che poi riuscite a lavorare su voi stessi e attrarre a voi altre persone dovete prima chiudere questo ciclo che vi ha legato con una persona che magari è stata anche importante per la vostra vita dovete perdonarla e dopodiché lasciarla andare quindi anche voi di conseguenza sarete liberi di fare nuove esperienze di vita ma vediamo per finire le energie emozionali con le carte legate agli oli essenziali abbiamo la carta al dritto dell'olio di cedro rosso che è l'olio della comunità naturalmente riuscirete ad entrare in contatto con diverse persone riuscirete ad entrare in comunicazione con gli altri è importante guardarvi nel profondo quindi se state anche cambiando una situazione o cambierete una parte della vostra vita ok è importante quindi cercare cercare proprio di guardarvi dentro capire quello che desiderate portare con voi ok proprio come bagaglio anche emotivo e aiutatevi fatevi aiutare da questo olio di legno di cedro per cercare proprio di trarre dal passato l'esperienza e a trasportare nel presente i ricordi più belli quindi dovete imparare ad affrontare in maniera serena in maniera comunque tranquilla le situazioni della vita e ritrovare quindi il senso della condivisione ok e questi erano i vostri messaggi benissimo cari amici andiamo avanti con il segno dei pesci ben trovati cari amici di segno dei pesci fantastica stefano chiocciola yahoo.it le mail di riferimento se avete informazioni sono i consulti privati di cartomanzia intanto che sto preparando le carte vi invito a lasciarmi un like un commento se vi va e a iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanina in alto a destra cari amici del segno dei pesci benvenuti per questo oroscopo del mese di settembre 2021 incominciamo con il primo messaggio e poi andremo a espandere comunque i messaggi allora abbiamo la carta del compromesso il compromesso può indicare che cosa un contratto una trattativa una negoziazione una conciliazione ok entrare in contatto in accordo con uno o più persone però vediamo di che compromesso si tratta vediamo un attimino allora abbiamo la carta del tre di spade vicino alla carta dell'indipendenza ok ma allora qua secondo me come posso dirvi secondo me qua capirete la o le persone che avete di fronte a voi sia in ambito familiare sia in ambito di rapporti sia in ambito o in ambito lavorativo capirete che probabilmente vi hanno fatto del male hanno anche un po' giocato con la vostra bontà con i vostri sentimenti e quindi secondo me voi capirete e prenderete le dovute distanze nel senso che se è un rapporto di lavoro magari tra colleghi ovviamente non è che potete dire ai colleghi andatevene via no magari vi rapporterete con i vostri colleghi ma avrete anche la vostra indipendenza nel senso che sicuramente ci sarà per forza il modo di doversi rapportare ancora con loro però riuscirete a avere comunque il dovuto distacco nei confronti di queste persone perché avete capito che appunto queste persone vi hanno un po' sfruttato e vi hanno fatto un po' male ok quindi questo è il primo messaggio che mi arriva ma andiamo avanti con il secondo messaggio allora vediamo un attimino la carta che è uscita è la carta della donna che vuol dire tutto o niente quindi per capire che cos'è chi è questa donna cosa farà che intenzione ha vediamo un attimino le carte seguenti può essere una donna che incontrerete oppure una donna che è già presente nel vostro nella vostra cerchia comunque di vita abbiamo la carta del 10 di denari che è una carta comunque positiva che anche qua mi parla di famiglia e poi vediamo un'altra carta abbiamo la carta dell'ordine ok però voglio pescare anche un'altra carta dei tarocchi vediamo un attimino molto probabilmente alcuni di voi riusciranno anche a chiarire qualche situazione poco piacevole con questa persona e a fare ordine nel rapporto che avete con questa persona abbiamo la carta dell'imperatore quindi mettere un po' di ordine di chiarezza di stabilità con questa persona qua potrebbe essere anche dei soldi che giungeranno voi ok da una persona che potrebbe anche essere o a che fare con la vostra cerchia familiare quindi se una donna che conoscete già vi doveva comunque dei soldi o voi avevate fatto un prestito a questa donna a questa persona secondo me qua questa persona ritornerà vi ritornerà indietro dei soldi ok quindi qua rimettere un po' in ordine il rapporto che avete avuto o che avete con questa persona ripeto dovrebbe essere una donna ok ma andiamo avanti con le altre carte questi sono i messaggi che mi arrivano poi se man mano mi arrivano altri messaggi diciamo in corso d'opera ve le vado comunque a indicare qua potrebbe essere anche il fatto di creare un rapporto molto bello con questa persona quindi potreste anche fare anche una nuova conoscenza con questa persona con questa donna e perché no creare un qualcosa di veramente grande ok quindi concretizzare anche un rapporto con questa persona ok e poi abbiamo la carta dell'uomo dalla donna passiamo all'uomo vediamo un attimino questo uomo perché è uscito allora vediamo 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 un attimino abbiamo il 9 di denari bella carta mi piace tantissimo la carta 9 di denari potrebbe essere qua secondo me un rapporto che sta fiorendo ok e che maturerà ancora di più con questo uomo 9 di denari è proprio una carta molto bella una carta di fertilità creare un qualcosa di bello con questo uomo guardate poi c'è la famiglia quindi creare un rapporto mettere su famiglia o comunque andare a convivere insieme sposarsi perché la famiglia ha anche il matrimonio ok quindi per quanto riguarda i rapporti i rapporti sia nuovi sia che sono già attivo da tempo sono rapporti validi rapporti di sostegno di condivisione di scambio stare insieme alla famiglia anche immergersi comunque nella natura in spazi verdi l'importanza della famiglia l'importanza dello stare bene con le altre persone ok e sicuramente riuscirete e questa persona soprattutto se siete single che entrerà nella vostra vita riuscirà ad arricchirla con tante sfumature ok c'è tanta gioia comunque nella vostra vita e godrete grazie a questa persona delle bellezze che voglio offrirvi alla vostra vita ok quindi comunque sono belle carte carte positive ma andiamo avanti con la carta del potere dei pensieri quindi in questo caso dovete ripetere questa frase che adesso andrò a dirvi dovete ripetere più volte al giorno per tutto il mese di settembre per attrarre a voi energie positive la carta è questa c'è abbondanza per tutti me compreso l'oceano della vita è prodigo nella sua abbondanza tutti i miei bisogni e tutti i miei desideri vengono soddisfatti prima ancora che le esprima ricevo il bene da ogni luogo persona o cosa quindi pensate in positivo perché comunque ci sarà abbondanza non solo per gli altri ma anche per voi non pensate che voi siete l'ultima nota del carro ok mi raccomando vediamo per finire la carta emozionale legata all'olio essenziale l'olio essenziale è di legno di cedro entrerete in comunicazione con altre persone potreste anche creare un'equip un gruppo partire comunque da zero ok è importante quindi imparare e riuscirete sicuramente ad entrare in comunicazione con gli altri quindi qua c'è maggiore fiducia in voi e anche il fatto che non vi sentirete dei falliti non vi sentirete dei perdenti ok quindi guardatevi comunque dentro guardatevi nel profondo fate meditazione ok fate un percorso spirituale ok e se dovrete apportare un cambiamento nella vostra vita utilizzate questo l'olio di legno di cedro perché vi può aiutare a favore di questo cambiamento e insegna proprio a trarre dal passato l'esperienza ovviamente e a trasformarla e a trasportare comunque nel presente i ricordi più belli ritrovando il senso della condivisione quindi c'è proprio il fatto di volersi relazionare con gli altri sia dal punto di vista di amicizia di amore di nuovi rapporti di lavoro ok molti di voi capiranno ovviamente non tutti però alcuni di voi capiranno che hanno di fronte a loro delle persone non troppo corrette capirete questa cosa ovviamente non potete far niente per soprattutto mi riferisco se siete in ambito lavorativo che avete magari dei colleghi poco piacevoli fatevene via ma secondo me qua appunto avrete comunque farete un compromesso e quindi starete sempre lì nel luogo di lavoro attuale ad esempio nonostante ci sono delle belve feroci di colleghi o di colleghe e riuscirete comunque nonostante tutto a convivere con queste persone io faccio io faccio il mio tu fai il tuo che sei visto sei visto e voglio anche essere un po' indipendente ok e questi cari amici erano i messaggi per voi per questo mese di settembre 2021 linturo